Primo anniversario di quello che venne definito un tentativo fallito di ammutinamento da parte del leader del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeny Prigozhin. Un anno fa, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 giugno, Prigozhin stava infatti guidando i suoi uomini a Rostov-Suldon, il maggiore centro logistico per i russi che combattono in Ucraina nel sud del paese, per impossessarsi del quartier generale del distretto militare meridionale e poi marciare verso Mosca. Dopo l'ingresso dei paramilitari nella città di Rostov-Suldon, Prigozhin accetta di fermare la rivolta dopo un colloquio telefonico con il leader bielorusso Alexander Lukashenko. Nonostante l'ira del Cremlino per l'ammutinamento di un anno fa, in questi giorni in Russia sono apparsi diversi memoriali dedicati proprio a Prigozhin e alla sua compagnia militare. L'ex chef di Putin morì il 23 agosto 2023, l'aereo su cui viaggiava precipitò nella regione russa di Tver mentre era diretto a Mosca.